E' disponibile il nuovo libro di Alberto Cavicchi, un libro online, un ebook, dove chi è proprietario, chi gestisce un'attività può trovare tante nozioni interessanti, potremmo definirlo appunto un vademecum per chi gestisce un'attività. Sì, siamo in un periodo di crisi, lo vediamo perché per esempio i consumi sono calati decisamente in questi anni e allora ci siamo chiesti come mai questo aspetto. E abbiamo verificato che è mutato un fattore fondamentale, un dato anagrafico. Oggi noi abbiamo una popolazione che invecchia progressivamente, abbiamo nuclei familiari che sono sempre più piccoli, abbiamo l'arrivo di persone dall'estero, dall'Africa e dall'Asia in modo particolare. Queste persone hanno delle esigenze e pongono delle domande alle quali non sempre siamo capace e dare delle risposte in termini di strutture del commercio. Noi abbiamo ancora una struttura del commercio che è basata sulla grande distribuzione, sta avanzando anche se lentamente in Italia le commerce, però invece sta sviluppandosi quello che credevamo a essere un patrimonio perso, ovvero un negozio divicinato. Perché? Perché il dato demografico ci dice che la gente ha sempre più bisogno di servizi a dei prezzi sempre più contenuti. Quindi le strutture che abbiamo pensato finora per il commercio erano pensate per le grandi famiglie, per i nuclei di tante persone, invece oggi le cose sono completamente modificate. Abbiamo posto attenzione per esempio a come ci si pone di fronte al cliente, quindi la prima cosa è pensare al marchio e alle vetrine, poi come deve essere fatto un negozio, poi come devono essere fatte le persone che lavorano dentro un negozio. E ci siamo accorti che siamo in un certo ritardo, sostanzialmente credo che ci sia bisogno di ripensare tutta quanta la struttura del commercio, da quella della grande distribuzione a quella online, a quella di vicinato.